Una sfida bellissima, continuo un percorso che era iniziato tre anni fa con l'Angolana poi sono stato chiamato quest'anno per uno start-up dell'azienda in quanto non c'era nessuno quindi avevano fiducia in me visto i miei trascorsi a Pescara per tanti anni quindi nella fase organizzativa come segretario sportivo a Pescara ero stato contattato un mesetto prima dal vecchio ex DS Francesco Marino con cui ho un ottimo rapporto per fare direttore sportivo a Francavilla poi ho fatto un'altra cosa, sembra Francavilla ma ho sposato il progetto a prescindere dal ruolo il ruolo è indifferente, in questo momento essendo solo sento il peso di questa cosa ma me lo sto godendo appieno perché è comunque una bellissima sfida Ecco, è un mix quello che sta nascendo tra alcuni giocatori confermati, importanti dello scorso anno mi viene in mente Palumbo, non fosse altro che per il fatto che è stato nominato come il miglior centrocampista di tutta la Serie D però sono arrivati anche giocatori nuovi, gli ultimi innesti fatti nelle ultime ore con Sanchez e Bedin penso che la squadra sia stata costruita proprio per dare un equilibrio ai vari reparti l'ultimo acquisto Bedin è un giocatore che sa giocare a calcio ma è un giocatore più di struttura e quindi uno che aiuterà tanto Palumbo a farlo correre un pochettino di meno indietro proprio per farlo essere più pericoloso in avanti, quindi abbiamo cercato di dare il più equilibrio possibile poi come ho detto prima sarà il campo giudice del campionato sicuramente io ho estrema fiducia del mister, ho lavorato già due anni con lui so che sa far giocare bene le squadre però i ragazzi se andranno in campo io li potrò soltanto soffrire da fuori, non potrò fare nient'altro Il mercato è chiuso e poi ecco il rapporto con Rachino, un rapporto che deriva già dal periodo insieme all'Angolana Sì, sì, guarda noi abbiamo a prescindere dalla scelta dell'allenatore che poi è stata fatta in comune d'accordo con il presidente a fine stagione quando non si sono trovati più i presupposti per continuare il rapporto con il mister Iervese lui mi ha chiesto informazioni sul mister, si sono incontrati, gli è piaciuto lui si è anche informato, il presidente piace informare e vedersi un po' tutto, il calcio abruzzese gli piaceva come giocava la squadra, si è fatto anche il presidente, si è fatto questa chiacchierata e è nato questo matrimonio Se ci saranno queste società di serie B che retrocedono nella nostra categoria io la vedo difficile puntare all'obiettivo principale che è quello di vincere il campionato a me andrebbe bene fare anche un punto di meno e raggiungere un obiettivo non è una questione di punteggi, noi vogliamo cercare di fare bene con le giuste spese come qualcuno inizialmente diceva, parlava di ridimensionamento, qui non c'è stato un ridimensionamento è stato un ridimensionamento di costi, cioè spendere il giusto però penso che la squadra con i vari giocatori ha fatto capire che non è un ridimensionamento di obiettivi grazie 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 grazie